Il giudizio è sicuramente positivo, abbiamo incontrato una squadra che ha messo tanta intensità, tanta cattiveria egonistica, quindi una partita reale. Nonostante il forte caldo si è giocato con ritmi importanti, oggi abbiamo provato qualche situazione che nelle partite precedenti non avevamo provato, abbiamo cambiato tanto informazione come per esempio abbiamo giocato con un centrocampo over, abbiamo fatto iniziare Pipitone dall'inizio, quindi volevo vedere alcune situazioni e per quello che dovevamo vedere è stato un buon test. Ma questo non è un fattore di poco conto, abbiamo lavorato a Perguso in un campo di dimensioni sicuramente ridotte, quindi adesso era anche il momento di iniziare a lavorare a casa nostra e provare qualche partita a farla dentro il nostro stadio. Naturalmente, come ho detto un attimo fa le distanze del provinciale sono sicuramente, le misure scuse mi sono sicuramente diverse da quelle di Perguso, però pian piano ci siamo adattati e pian piano dobbiamo abituarci perché questa è casa nostra. Sì, diciamo che la settimana, la quinta di preparazione è una settimana di scarico che ci porta poi comunque alla partita contro il Licata che dà l'inizio questa ben detta stagione. Purtroppo sappiamo che il campionato è stato slittato di qualche settimana, dobbiamo modificare qualcosa sotto il piano atletico, il piano fisico per arrivare bene il giorno 14. Intanto ci prepariamo per questa partita dove abbiamo la possibilità di giocarla in casa, abbiamo la possibilità di abbracciare e conoscere il nostro pubblico e speriamo di fare una buona prestazione e non deludere le aspettative. Ma è un Trapani che ha cercato oggi di mettere in campo quello che ci ha chiesto il Ministero, lo staff, l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Abbiamo ancora sulle gambe i carichi di lavoro, piano piano le stiamo smaltendo e ci stiamo preparando al meglio per la partita di Coppa. È un'emozione unica perché è una piazza blasonata come Trapani, sono veramente contento perché abbiamo creato un gruppo veramente fantastico, uno staff preparato che ci supporta ogni giorno, ci allena e ci prepara al meglio. Ma penso che arriveremo al 100% per questa gara, stiamo, come ti ho detto appunto prima, stiamo smaltendo i carichi di lavoro, ci stiamo preparando, siamo carichi per questa prima partita. L'unico rammarico è che il campionato slitta di due settimane, però siamo sempre lì sul pezzo e continueremo a lavorare come abbiamo fatto. Diciamo che stiamo lavorando molto bene, dobbiamo continuare così e spero che sia un Trapani a vincente che faccia venire gente allo stadio perché questo è uno dei nostri obiettivi. Adesso poniamoci obiettivi a periodi brevi e dobbiamo lavorare bene, stiamo facendo un ottimo gruppo e dobbiamo continuare così. Questo non lo so, io cerco di dare sempre me stesso ogni giorno dentro e fuori dal campo e cosa riesco a dare non lo so, spero che riesca a dare qualcosa soprattutto ai ragazzi. Io sono molto soddisfatto, si è creato un buon gruppo e adesso arriva una competizione che ci dà tanti stimoli e cerchiamo di fare il meglio come sempre.